Infatti, perché? Quando hai messo una skin, hai messo una skin, no? Vabbè, ci fa il season pass. Ma già sento un pavere, peccato. No. Siamo qui! La battaglia giaccia al di sotto. Vabbè sì, l'ortaggio gli sta bene dopo... Ieri parlava di Inda, lui. L'altro ieri, quando era? Parlava della tinta, dell'Inda. Sono sottotiro. Un nemico di sotto. Sto controllando l'aria. Sono a terra. Contatto con il nemico. Prossimo mello in l'ultimo. Apro il fuoco. Prima uccisione. Si parte. Ho abbattuto un nemico. Collega, abbiamo perso uno. Ricarico. Il banner del nostro collega. Il rainfall. Ciao! Acqua schifosa. Mamma nonna. Sì, ero io. Stava la creatura che volo. Questa ci dà il loot. Quindi insomma, quella era un lupo sanitario, una mina vagante. Quello di prima. Sì, è un po' quello lo stile del portaggio, effettivamente, che se ne vada solo e uccide gli altri. Non c'è niente di meglio di una bella LMG. Non c'è niente di più. Sto controllando i ditto. Mi stanno colpendo. Qui c'è un loot fire. Aprò il fuoco. Perché è un nemico. Mi hanno individuato. Questa volta sono in hotella. Non stanno colpendo. Ricarico. Bel lavoro, colleghi. Questa volta è gratis. Sto controllando i dottori. Sto guardando. Tengo il problema diarti, però. Mi sto curando. Un attimo. Mi sto prendendo qualche secondo per curarti. Sto posizionando un portale. Sto guardando. Sto guardando. Tengo gli occhi aperti. Mamma mia. Dai, 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 dai. Sì. Sto guardando. Tengo gli occhi aperti. Curio. Non so quando l'ho raccolto, sto l'oso. Ci proveremo. Non me lo io. Sto curando le mie ferite. Mi sto curando. Mi sto curando. Ti reaimod. Devo recuperare il banner dopo. Ok. 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 A me mi sapebbero un fottio di siringhe per arrivare la lama di arte. E se hai disconnesso e poi hai ritornato mentre tu stavi da vicino. Abbiamo un modo libero. Ciao. Vabbè. Eeeh. 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 Un minuto. Un minuto. Un minuto. Vabbè, mi sto curando, un attimo 45 secondi, l'anello è vicino L'anello è vicino e ho 30 secondi, una passeggiata L'anello è vicino, ho ancora 10 secondi, sono armata, è tutto ok I got one piece Non c'è il piro, mi scheguetto No Replicatore in discesa Mi sto curando, un attimo Ok 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 45 secondi l'anello è vicino l'anello è vicino e ho 30 secondi una passeggiata ancora 10 secondi l'anello è vicino sono in vantaggio attenzione l'anello in movimento capsula assistenza in arrivo che è andato l'anello in movimento si si ma non sono quasi tutti tutte le armi sono in movimento Sessanta secondi e l'anello è vicino. Che tensione, eh? L'anello è abbastanza vicino e mancano 45 secondi. Non c'è fretta. Sessanta secondi e la chiusura dell'anello. Beh, almeno è vicino. L'anello è vicino. Ho ancora 10 secondi, sono armata. È tutto ok. Ok. Ho posto un po' di merda, però. Uff, altre due squadre e poi finalmente potrò fare un salto in bagno. Round 5. Inizio contro la rovescia anello. Porca. Un minuto, l'anello è vicino. È bello quando fila tutto il rischio. L'anello è abbastanza vicino e mancano 45 secondi. Non c'è fretta. Eh sì. Mmh. Trenta secondi e la chiusura dell'anello. Eh, almeno è vicino. Ancora 10 secondi. L'anello è vicino. Sono in vantaggio. Un minuto, l'anello è vicino. Oh, ok. L'anello è vicino. Not prévito. Oh, sì. No No L'anello è abbastanza vicino E mancano 45 secondi Non c'è fretta Sono ancora Appena finisce una delle due Appena finisce una delle due Aspetto lontano Eh sì Ancora 10 secondi L'anello è vicino Sono in vantaggio Resta una sola squadra La fa ora È praticamente fatta Ultimo anello Vivere o morire Beh in ogni caso Molto Molto No paga qualcun'altro Preparo una copertura amplificata Non sarete mai migliori di me Era già venuto Era già venuto Era già venuto Sono messa in un blocco di giù Ti aspetto Ti aspetto Una copertura amplificata Una copertura amplificata siete i campioni apix come apparece a sport un prima di storia 2 mili anni sì sì un attacco di cuore viene col nemesis